E' stata fissata per il 30 novembre alle ore 18 l'accensione dell'albero di Natale in Piazza del Popolo con il via alle celebrazioni delle festività pesaresi nell'anno di Capitale della Cultura che vedranno uno scenario di piazza diverso rispetto ai precedenti inverni. Aspettando di definire il timone organizzativo di un Natale che nelle scorse edizioni veniva coordinato da Massimiliano Santini, il Sindaco Biancani ha preannunciato alcune novità nel Consiglio Comunale di ieri, a cominciare dalla gestione di festività alle quali saranno destinati 169 mila euro di risorse. Quest'anno innanzitutto diciamo che abbiamo fatto una manifestazione di interesse, una sorta di bando, di gara per individuare il soggetto che andrà a organizzare il Natale del 2024. A giorni dovremo individuare l'impresa che quindi farà questo lavoro, ma ci sono delle novità rispetto allo scorso anno. Innanzitutto il palco non sarà sotto il comune, ma il palco sarà sul lato delle poste. All'interno del palco ci sarà la biosfera, perché penso che sia veramente molto bella anche con tutti i messaggi e tutte le immagini che riesce a trasmettere. L'albero di Natale è confermato comunque sul lato del comune di Pesaro. Dall'altra parte ci sarà una pista per il pattinaggio che non sarà in ghiaccio. Noi stiamo puntando sulla sostenibilità. Le temperature ormai non consentono più di mantenere una pista di ghiaccio. Mi ricordo negli scorsi anni c'era la polemica che in qualche modo si vedeva come questo ghiaccio era difficile da poter mantenere e quindi c'era un consumo notevole di energia elettrica. Dall'altra parte non metteremo più le casette nella piazza del popolo, ma andremo a distribuirle con i vari artigiani che vorranno essere presenti a Pesaro e andremo a distribuirle nelle vie o nelle piazzette sempre nel centro storico. L'obiettivo è anche quello di realizzare delle proiezioni sia sul palazzo della prefettura sia sul palazzo delle poste e anche creare tutto un cielo tipo stellato all'interno della piazza.